La parola d'ordine è tagliare. Una manovra lacrime e sangue, quella dell'amministrazione De Luca. Nel mirino del sindaco stacanovista ci sono quelle che erano bandiere del predecessore a Corinti, azienda Trasporti e Casa di Vincenzo. La Casa di Vincenzo, che rappresentava la punta di diamante dell'amministrazione del sindaco, portato a Palazzo Zanca dal movimento Cambiamo Messina dal Basso, e al centro di una diatriba tra la cooperativa che ha gestito sinora in regime di convenzione, quello che rappresenta un rifugio per i senza tetto è l'amministrazione De Luca. De Luca e il suo assessore ai servizi sociali ritengono quella casa troppo costosa. 250.000 euro all'anno dovrebbero essere ridotti a soli 50.000. A lavorarci, secondo l'assessore ai servizi sociali Calafiore, dovrebbero esserci solo volontari. I numeri, però, secondo la cooperativa Santa Maria della Strada, che di fatto da venerdì è stata messa alla porta, non tornano. Quei soldi servono non solo per lo stipendio degli addetti al servizio, ma anche per la gestione di servizi accessori e per la manutenzione. Irremovibile l'assessora. Casa riaperta per qualche settimana in attesa di ristrutturazione e presto trasferimento degli ospiti in una nuova struttura che si trova vicino al Palacultura. Prima bandiera, ammainata. Discorso molto più complesso per l'azienda Trasporti. Il sindaco ha annunciato di aver trasmesso interi faldoni in procura. Il tram da domenica sospenderà le corse nei giorni festivi, ma il suo destino, se De Luca manterrà la sua rigida posizione, è segnato. Sarà smantellato. L'ATM avrebbe debiti per oltre 55 milioni di euro. I predecessori smentiscono. De Luca vuole privatizzare quel servizio pubblico diventato fior all'occhiello dell'amministrazione a Corinti. E questa sarebbe la seconda bandiera ammainata.